Amici miei, non c'è trippa per gatti. Ben ritratto a Mercedes in questo nuovo video, benvenuto sul canale YouTube di Quantirica. Non c'è trippa per gatti perché mi hai sentito dire, ah ma agosto, grande mese, eccetera, eccetera. Bene, vero, verissimo, però ci sono dei momenti in cui il mercato si impalla totalmente. Parliamoci chiaro, vai in stallo con incapacità totale di generare un movimento direzionale. Ecco, è proprio in queste situazioni in cui il mercato si impalla che si genera tanto, tanto, tanto rischio. È un dato di fatto, purtroppo il mercato non può fare sempre dei movimenti direzionali distesi volatili come piace a me, come piace a noi. E credimi che questo tipo di situazioni offrono tante opportunità perché se sbagli puoi permetterti di recuperare. Mentre se succede come nella giornata di oggi che è lunedì, 28 agosto, insomma, a parte questo strappettino che sta facendo il mercato proprio in questi minuti, ecco, diciamo che non c'è trippa per gatti. Che cosa significa questo? Significa che quando il mercato entra in una fase di stallo, entra in una fase in cui non è controllato né dei compratori né dei venditori, né dei venditori, c'è solo ed esclusivamente rischio. Ora, conviene operare in questo tipo di fasi? Personalmente direi proprio di no. Il problema che ogni trader ha è identificare quando queste fasi specifiche si vanno a concludere. Il vero problema è questo perché uno dice, ah beh, ma sto qui tutto il giorno, aspetto, 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 poi non succede un tubo. Può essere tranquillamente che il mercato adesso parte, va a fare un nuovo massimo locale, va a spingere il rialzo in una maniera forte, così come potrebbe essere che va a sentire i massimi intraday, magari fatti poco dopo l'apertura della sessione americana, e va immediatamente in correzione. Ecco, questi scenari qui sono in assoluto quelli che mettono a dura prova sia le capacità operative che le capacità mentali, perché è inutile dirlo, cioè stiamo qui tutto il giorno, lavoriamo tutto il giorno per magari vedere una, due, tre operazioni valide durante la giornata, o addirittura come oggi ben poche occasioni operative di quelle vere, di quelle che portano risultato. Tante operazioni in cui si entra, si gestisce, si stoppa, si esce in anticipo, insomma fa parte del trading, fa parte del lavorare sui mercati finanziari. Non è sempre facile, non è sempre possibile tutti i giorni avere una condizione eccellente in cui il mercato sviluppa la direzione, il numero di punti, di tic, di qualsiasi cosa sufficiente per noi, e fa parte del gioco. Ancora una volta, l'ho sottolineato già nel video scorso direi, uno degli indicatori che utilizzo è banalmente il dollar range, lo vedi qua sotto, si creano proprio dei momenti in cui durante lo sviluppo della sessione americana addirittura il movimento si pianta, si riduce veramente tantissimo. Guarda sulla Standard & Poor's, la stessa cosa anche sul Nasdaq, insomma. Sono condizioni in cui bisogna prestare molta attenzione, perché l'esperienza ci suggerisce una cosa, quando il mercato accumula, 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 è prossimo a una ripartenza, che sia su una direzione, che sia su un'altra, che sia una correzione, un breakout, qualsiasi cosa, è pronto a ripartire. Il problema grosso è che non c'è un momento esatto, e non mi venite a raccontare che cicli, mica cicli, volumi, mica volumi, non esiste una tecnica che dice, boh, domani mattina il mercato riparte, se esistesse saremmo veramente tutti non milionari, miliardari. E purtroppo fa parte del mercato, non c'è niente da fare. Io personalmente cerco con tutte le mie energie di non infilarmi in queste situazioni, ma di rimanere vigile e attento per capire se il mercato può andare a parare su dei livelli che ho determinato. Ti faccio un esempio, questo livello, che è il 4.425, che ho determinato questa mattina, che ha una colorimetria diversa da tutti gli altri, che per me era comunque un livello di prezzo fondamentale, su cui avevo preparato già la mia analisi, era un livello importante. Però ho visto come si è mosso il mercato, e a parte lo strappo che ha fatto questa mattina, da metà mattina fino sostanzialmente all'apertura del mercato americano, di occasioni vere e proprie, ce ne sono state pochissime. Paradossalmente si è mossa in maniera più interessante l'Europa, pur avendo nella giornata di oggi l'Inghilterra chiusa. Sono situazioni particolari che mettono a dura, durissima prova ogni operatore, ogni persona che si siede davanti ai grafici e cerca di tirare fuori la giornata. Quindi ancora una volta, vera la tecnica, vera le piattaforme, vera la qualità dei dati, vero tutto, ma se non hai un ambiente di lavoro che sia compatibile, sereno, e che ti metta nella situazione di poter prendere delle decisioni, tra cui opero o non opero, beh, quello lì diventa un problema, credimi, un problema di quelli veramente rilevanti. Io personalmente, ripeto, in questo tipo di situazione cerco di evitare di infilarmici. Poi, voglio dire, di occasioni ce ne sono sempre, i mercati insegnano che sono aperti oramai 24 ore al giorno, quindi preferisco evitare di infilare, come dice qualcuno, la testa nel sacco e tapparmi il naso, e lavorare in maniera seria e consapevole quando le occasioni sono veramente succose. Ecco, volevo solo fare una piccola riflessione di quello che è stato il movimento della giornata odierna, 28 di agosto, è vero, siamo in chiusura di mese, è vero che fra qualche giorno comincia a rolda sui bond americani, insomma, sono vere tutta una serie di cose, però il mercato oggi ha dato ben poco e ben poco sta continuando ad offrire, nonostante visivamente uno dica, caspita, però 10 punti di movimento li ha fatti veramente in 47, 0,3 in 15 minuti. Verissimo, ma se non sei pronto a scattare subito in quei 10 minuti il resto della giornata è comunque piatto e piallato. Bene, se questo video ti è piaciuto metti un mi piace, commenti qui sotto il video, mi fa sicuramente piacere, iscriviti al canale YouTube di Quantirica, buon proseguimento, buon lavoro, buon trading, buon gain e a suo punto buona volatilità perché ci vuole. Alla prossima da Marcello.